Abbiamo dato a Chianese una squadra importante, anche se forse manca un play di qualità. Siamo primi, è vero, ma dobbiamo giocare più in velocità e più in verticale, ma soprattutto dobbiamo avere sempre fame e dare sempre il massimo in campo. Parole e musica di Demetrio Sartiano, direttore generale del Chieti. Il dirigente parla a 360 gradi per la prima volta e era inibito fino alla scorsa domenica. Nell'incontro si è soffermato sulle tematiche generali appena accennate, ma anche sui singoli. Siamo contenti di Ardemagni, ha detto, ma dobbiamo aiutarlo di più. Di Ambo, mi aspetto molto di più da lui. Diretto e concreto, sentiamo alcuni passi salienti. O'Fal, Ardemagni, io li definisco i Jaguari, le Pantera. È chiaro che però la squadra deve lavorare a uno spirito di sacrificio per metterle nelle condizioni. Oggi qualche lacuna c'è. Noi abbiamo fatto sei gol, ne abbiamo preso uno, abbiamo dimostrato che ogni reparto importante è stato costruito come l'attacco, che però bisogna migliorare su alcuni aspetti. Quando c'è un progetto, ci deve essere un progetto fino alla fine. La società credeva e crede in Mauro Chianese. Questa è dimostrazione di quello che abbiamo sempre detto. Cercheremo di fare grazie alla proprietà che ci mette nelle condizioni, sapendo anche che però oculiamo, guardiamo, osserviamo e facciamo di tutto per ottenere il meglio sia per la piazza sia per la nostra proprietà. Non nego il fatto di vincere il campionato, provarci fino alla fine, questo senz'altro. È inutile che ci nascondiamo, che questa squadra è stata costruita per dare un'impronta importante. Poi si valuterà qualche tassellino, però è inutile che ne diamo questo. Anche perché vedo la domenica sugli spalti pieno entusiasmo, di calore, di affetto, di pubblico. E noi siamo in dovere, capisci? È il minimo che possiamo fare.